ma cosa mi tieni a mano? vai basta mi devo lavar con la mucchina adesso mamma mia mamma mia mamma mia la mucchina vedi questa è la modalità non si va a scuola non si va a scuola guarda che c'è una cassa messa lì in bilico in alto dove? in alto vuoi che ti arrivi in testa? la si siamo a un'ora e cinque di registrazione si che un po' si taglia però boh ma se è troppo lunga la fai a episodi vabbè non so vediamo tanto tutta roba che si vede poi in post adesso non vorrei dire ma forse bisogna fare il fenomeno no intanto cosa fa quando schiacci il tasso? si apre la porta e fin qua quale porta? ora questa qua questa però adesso qui ci giochiamo la nomination come più ingegnoso l'ingegneria? il più ingegnoso qua la nomination ci giochiamo gli hanno detto prima di votare il più ingegnoso vediamo cosa fai te eh vabbè ma se mi stai a guardare non è che la sai già no aspetta 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 ci sono ci sono zero ah ah cosa stai facendo? ho fatto male il salto niente mi lascio andare no ho sbagliato tutto allora intanto volevo andare qui guarda guarda questa qui non sono più neanche nella tua stessa sono bloccato sono bloccato no guarda cosa faccio con sta leva eh sì mi piacerebbe guardarti ma è un casino qua aspetta ma che eh io ero andato vedi il tubo che avevo blu eh eh dall'altro lato c'è quello dove tu dove io sono rimasto incastrato nella porta ah io sono caduto di là e da solo non potevo uscire quindi cosa avevi trovato? guarda 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 questa leva eh aaaaa ma allora sei bravissimo vai su eh mi stai uccidendo non so se te cazzo aspetta aspetta ma te lo senti sto casino di cantiere che c'è? allora cantiere vai adesso tiro la leva all'altra parte adesso ti prego guardami c'è una posa un po' audace è una posa da cura l'aria ma sempre un cammello sempre un cammello te ne aveva fatto le posizioni del cammello eh ma mi sto mi sto questo è il calendario ma però mi sa che non va più di così prova ancora siiii boh no troppo forse eh buonanotte sai che è è tipo a mezzo no fermo va bene così ma sai che è tipo a mezzo impossibile ma sei che è tipo a mezzo impossibile ah guarda ti sto godendo lo spettacolo da qua ahahah ahahah ok ma no ma dovresti riuscire a no 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 dove vai dove vai perché a morire vado aspetta ma c'hai gli scalini d'altra parte sì c'hai ragione anche te cosa fai mi ne te la fai eh ho fatto male di salti eh lascia fare a chi di salti se ne intende a parte che potremmo anche passare tranquillamente eh in teoria in teoria io tengo aperta la porta esatto o sennò dai tubi blu guardalo 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 sì sei l'equilibrista del circo ok adesso 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 se buon cazzo e qui c'è l'applauso 92 minuti di applausi e qui c'è l'applauso tu ero un angelo mi sorpreso tantissima paura questa la devi mettere il video a ralenti la devi fare il replay L'amo viola Mi son preso una paura Eh ciao Sono lasciato andare anch'io Via Ma non ti lasciare andare Sei ancora giovane Guarda Che aiuto Hai ancora molto da offrire Almeno prima di morire Devo finire il mio gioco Ah giusto Eh no No prima devi fare anche qualche DLC Eh già Gratissimo Quello dipende se il gioco piacerà agli utenti Ecco Aspetta Aspetta Non buttare giù la cassa Che vuoi Ecco Eccolo là Perfetto Adesso non serve neanche che saliamo Dai sali 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 Che ti diverti Secondo me Ci vuole che sali Perché Con una mano devi tenere la cassa Con l'altra mano fai il gorilla Oh guarda Che se la fai cadere Per salire te E' quello di avere la mia paura Cos'hai fatto Olio cuore Vai tu Vuoi andare tu Aspetta Ah fermo però Pronto? No Non sono pronto mai nella vita Ok Con una mano tengo Con la Pronto No Ma ti ho fatto la cazzata Ti ho fatto la cazzata Ma ti ho fatto la cazzata Vai 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 Attiva Attiva la leva Attiva la Dove sei? Arrivo Arrivo Resisti Attiva la leva Resisti Attiva la leva Presto E' andato a farsi i giri E' andato Ce la farò Perfetto Sfigata Oh Ottimo Eh vabbè ma c'è proprio E' il cagliere Ma E dai Niente Ma cosa mi tieni a mano? Vai Basta Mi devo lavar con la mucchina adesso Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mucchina Ancora Ma quanto dura Oh madonna Si mi sa che facciamo Due parti Almeno Senti Mi sembri un ubriacone Che si apposa Sto da bando Ascolta Stai Posenage Guarda qua Vado a giocare a jiu jitsu Guarda Stai volando? No è un vetro Ah Quindi lì presumo va spaccato il vetro No Se salto No eh Con questa Tira Con questa Bravo No metti da qua Aspetta ti aiuto Arrivo 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 Ah stai fermo Arrivo Cosa sei Tutto preso Vai Prendila su A modo Aspetta Aspetta A modino Comodino Cosa Ci dai morsi Ci dai bacini Che fai Ole Tiri su ingegnere Ho detto Tiri su ingegnere Ah ho capito Ho capito vieni su Ho capito vieni su Aspetta Tira mi giù Guardami Sai dove mi devi portare? Dove? Lassù Su Ok Ci Ci si E adesso ti devi buttare sotto per rompere il vetro? No Come fai a rompere il vetro? Eh c'è una patatina gigante Una patatina gigante? Si Aspetta Adesso la prendo la patatina gigante Ok Arriva Aspetta Ce la fai? Eh La patatina tira Ah No no Ho capito Qualcosa Devi toglierlo Non buttarlo giù Toglila e basta Guarda Ah però non basta Perché Patatina Esatto Allora Boom Non ho visto ma ho sentito il rumore Quindi Apposta Quindi puoi immaginare Aspetta che glielo togliere un po' di vetri Perché sono Non posso No Ho rotto la cosa Ho rotto la Ma intanto è aperto Quindi Cosa me ne frega Oh Oh Tirami Sì Mi devo Dobbiamo dondolare adesso Sì 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 Però Forse No No Perché No magari c'era più Vabbè Vai No Ma È Appena un pelo Dai Anche l'altra Anche l'altra Non so se ce la faccio Proviamo Eh magari ci abbiamo più peso Vado a sapere Ti sto tenendo la gamba Ah no Sai che secondo me andava fatto da lassù Dici Eh uno lo fa da giù E uno lo fa da su Dai proviamo Vai Più in alto Sei più pesante te Senti che rumore fa È l'armatura È l'armatura I flying grey zone Io sono ancora sotto Comunque No Non c'era il vetro Ah Cacchio Che palle Comunque allora non serve a salire sotto No Basta prenderlo decentemente In che senso Nel senso che sei una piffa E l'hai preso Male Un alfo Io non sai chi sono i flying grey zone Ma tu vai in su e giù per Eh sì Ma io c'ho il joystick Opla Ale Prezzo del salto Eh sì E verso la morte Ottimo Oh Qui siamo nel tuo Uè benvenuto a casa mia Sì però lo facciamo la prossima volta Mi spiace No proprio mezzo Mi spiace Adesso qua Ti metto qua E ti cemento vivo Ti muro No io voglio andare avanti No non ci vai avanti Vieni qua disperziato Non ci vai avanti No non ci vai avanti No Lasciami No Lasciami di pensare Dai qua Allora ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Non so quanti ne usciranno Tra l'altro Quindi non so se questa sarà Lasciami Ti denuncio Quindi ragazzi Fatemi sapere cosa ne pensate Di questo video Fatemi sapere cosa ne pensate Del buon Galvard Che sta facendo Il Allora Stai fermo? Dai non mi mettere il culo in faccia però E quindi Direi che il video finisce qui Finisce qui Si è reso Si è reso Oh finalmente Il video finisce qui Io vi ringrazio Anche Ringrazia Grazie a tutti ragazzi Non giocare coi sassi che ti fai male E Smetti Setti là Non ci vai di là Non ci vai di là Quindi Noi ci vediamo Come sempre Al prossimo video Sempre qui Su Orlas Games Ciao a tutti ragazzi Ciao ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti